ben tornati all'angolo del cinema quest'olta parliamo di boys afraid di boa paura di ariaster film uscito tempo fa ma che ho recuperato solo di recente perché all'epoca dell'uscita cinema non ero voluto andare a vederlo per una serie di motivi che avevo spiegato in un video reaction quando avevamo reagito al trailer video che poi ho rimosso dal canale non so se lo rimetterò visto le numerose critiche visto anche il fatto che comunque era un video troppo emotivo in cui mi lanciavo in critiche troppo aspre e troppo pregiudizievoli verso questo film perché giustamente alla luce dei due precedenti film che avevo visto di ariaster ovvero hereditary emil summer avevo una brutta opinione di questo regista opinione che tra poco vi dirò se è stata smentita confermata da questo boys afraid che è un film molto diverso dai due precedenti di ariaster è un film molto più surreale molto più simile ai film diciamo di terry gilliam se vogliamo infatti mi ha ricordato un po' parnassus di gilliam che anche se non è il film più riuscito dell'ex monty python è anche un film molto surreale molto esistenziale che parla molto dell'esistenza del destino umano e di come questo si rapporta al mondo dell'arte cosa che viene fatta anche in questo boys afraid che secondo me è un po' il parnassus di ariaster perché le tematiche sulle stesse la vita la morte e il rapporto della tra la vita e l'arte ok tra la vita e l'espressione di questa vita del diciamo l'espressione la la rappresentazione della vita stessa attraverso l'arte che è una cosa un po' paradossale perché se già in parnassus era paradossale perché un film che racconta la vita che viene raccontata dall'arte anche qui in boys afraid c'è la vita che viene vissuta che poi viene raccontata attraverso l'arte e paradossalmente anche il film racconta la vita vabbè capite tutto un giro un gioco di scatole cinesi però ovviamente qui c'è il tocco di ariaster tocco che da una parte è sapiente geniale come nei due precedenti film d'altra parte un tocco di merda che qualsiasi cosa tocca la trasforma non in oro ma in merda perché ariaster ci deve sempre mettere il suo carico di angoscia il suo carico di paure il suo carico di sensi di colpa di rapporti malsani con le altre persone soprattutto in questo caso con i genitori e diciamo che parlare di questo film non è facile ma penso di aver iniziato col piede giusto forse in questa recensione parlando proprio della sostanza di questo film di come ariaster tutto ciò che tocca lo trasforma in qualcosa di spiacevole di sanguignosi ma anche di fortemente angoscioso e che è in grado di con le sue sapienti doti registiche ma anche con il suo sapiente sound design perché anche come nei precedenti film anche in questo film il suono la colonna sonora ha una sua importanza capitale perché sappiamo che nei film il suono è in grado di veicolare le emozioni e nei film di ariaster vengono sempre veicolate emozioni molto negative molto traumatiche molto paranoiche ok il suono nei film di ariaster va sempre a veicolare questo queste sensazioni di paranoia di angoscia di ansia e va ad amplificare ciò che ciò che è la parte visiva del film che già è parecchio far parte visiva e narrativa del film che nei casi nel caso dei film di aster sono sempre molto angoscianti e molto spaventoso no spaventoso ansiogene io già avevo detto che nei due precedenti film di ariaster ariaster secondo me era un criminale perché perché instillava nello spettatore delle sensazioni di angoscia e di paura così profonde molto più profonde di quelle dei dei film di genere dei film horror tradizionali anche quelli più riusciti per dirvi anche i film dei più grandi autori horror come roman polanski o staley kubrick che è stato un maestro in tutti i generi ma soprattutto nell'horror con shining no e anche ad wise chat ha delle sensazioni delle sensazioni un po' ansiogene però nei film anche dei più grandi autori dell'horror di questi film così angoscianti non si raggiungono le vette che vengono raggiunte da ariaster che con un sapiente uso delle immagini del sound design della drama delle atmosfere crea una crea delle delle situazioni così angoscianti e profondamente disturbanti che se una persona che guarda i suoi film sta cosa l'ho cercato di spiegare anche nel nella preview di questo di questa recensione quando abbiamo fatto la reazione del trainer se una persona che già già ha problemi suoi di ansia di depressione guarda i film di ariaster riceve l'ammazzata finale e magari se uno era uscito dalla depressione in tempi in passato con questi film rischia di rientrarci perché sappiamo che chi ha avuto un passato di depressione di questi problemi psichici qua è facile che ci ricasca quindi una persona si deve sempre lontano tenere lontano dal baratro no e i film di ariaster sono criminali nel senso che sono in grado di riportare una persona che ha passato che ha avuto un passato di depressione di ributtarcelo dentro e questo ve lo dico perché su di me hanno avuto degli effetti brutti si filma questo meno beuse fredde beuse fredde fortunatamente meno molto meno degli altri due e parliamo brevemente anche degli altri due film quindi qua facciamo anche una se avevo fatto un film dei primi cioè una recensione dei primi due film in questa recensione parliamo di tutti e tre i film tutta la trilogia questo terzo film è molto diverso dagli altri due gli altri due film erano un po trattavano lo l'oscurità e la luce mi sono mi sono vabbè ereditary parlava dell'oscurità faceva dire che attraverso eventi traumatici si può fare un percorso che ti porta verso l'oscurità più grande e a diventare te stesso una sorta di demone in terra fondamentalmente ok ereditary quello era il concetto sì perché nella passata recensione quando ho parlato di millsommare di ereditary ho parlato del film di cosa faceva di cosa non faceva il film delle sensazioni che ti dava ma poi alla fine ho parlato anche della drama ma poi alla fine non è anche scusate se mi ripeto ho parlato anche delle di dove si ispirava ariaster dove si era ispirato si era ispirato a vecchi film del passato no come rosemary's baby come come coso the wicker man no l'uomo di paglia film mitico di peter weir rosemary's baby di polanski infatti c'è molto di polanski in ariaster e avevo parlato di tutte queste cose le ispirazioni la drama le sensazioni che dava perché erano dei film dannosi questa volta invece vi parlo anche della sostanza del film di dove va a parare il film ok millsommar andava a parare in questa cosa attraverso un percorso scuro traumatico il protagonista raggiungeva l'oscurità assoluta diventava un demone in terra fondamentalmente invece in millsommar che il film non dell'oscurità ma della luce sempre attraverso un percorso traumatico e profondamente scioccante la protagonista non diventava un demone in terra ma diventava una specie di dea in terra però una dea sempre oscura che andava a distruggere i suoi simili quindi le tematiche di questi primi due film di ariaster sono come attraverso la sofferenza si raggiunga non l'illuminazione ma si raggiunga un qualcosa di più elevato si diventi più elevati degli altri esseri umani c'è la sofferenza il flagello come strumento per diventare qualcosa di extra umano di elevarsi al di sopra degli altri uomini che però è sbagliato perché noi non dobbiamo aspirare a diventare una persona superiore agli altri ma che è fondamentalmente priva di empatia e priva di sentimenti umani perché questo ti rende negli occhi di aster questo che ti rende un semidio un superiore l'abbandonare i sentimenti umani e l'abbandonare l'empatia i sentimenti umani l'essere umane diventi qualcosa di oltre che va oltre l'umano ma in maniera negativa perché per di tutto ciò che è umano sono fondamentalmente no questi due percorsi di oscurità e di luce ma sempre che ti portano a diventare qualcos'altro dall'umano nei primi due film di aster in questo film invece il protagonista boh è totalmente umano anche troppo fa vedere che boh è un mediocre è un è un pauroso uno che ha paura di tutto per questo boh ha paura dice nei primi due film i protagonisti non avevano più paura superavano la paura della morte il trauma e diventavano qualcosa di più elevato dell'umano qua invece boh ha una paura fottuta ha una paura tremenda che va a va a condizionare tutta la sua esistenza e lo porta sempre al fallimento alla sofferenza e al non a una non vita che lo porta sempre fuori dai suoi le sue scopi e da ciò che lui dovrebbe potrebbe diventare quindi sostanza a riessere con questo testo film mi fa ok nei primi due film vi ho fatto vedere come abbandonando i sentimenti ci si eleva a semidio in questo terzo film invece vi faccio vedere come abbracciando diciamo essendo preda delle paure le debolezze umane alla fine non diventi nessuno fallisci infatti questo film è fallimentare e sono tre ore quasi buttate direi perché non si va a parare da nessuna parte ti fa semplicemente vedere come boh è fondamentalmente un fallito nella vita sin dalla sua nascita in cui gli infermieri si sente solo nel sonoro lo fanno cadere lui batte la testa questo accade proprio nel primo minuto di film si sente e la madre disperata preoccupatissima per il figlio apprensivissima che poi lo sarà per tutta la vita la madre di boh e questo anche condizionerà la vita condizionerà la vita di boh il rapporto della madre stesso che nel film non c'è ma c'è è una presenza costante tutto quello che ha fatto la madre per il figlio e alla fine ritornerà questa cosa ma non faccio spoiler in che modo perché è un punto veramente un punto focale del film su cui non devo fare spoiler in questa recensione ok già all'inizio del prima che inizio il film l'ombra della madre si vede perché appare un logo un logo particolare che questo logo chi è attento già nella prima mezz'ora del film si capisce cos'è io sono stato attento e me ne sono accorto è un logo con scritto mw che stava anche nel merchandising del film a chi andava a vedere il film in anteprima veniva regalato un cappellino con sopra questo marchio mw cos'è questo mw la genialità è che questo marchio appare tra i nomi dei produttori del film quindi uno si pensa all'inizio che sono dei produttori ma io già avevo visto quel marchio sul cappellino su altre cose quindi sapevo che era qualcosa che stava all'interno del film ok che era un marchio finto che si trova all'interno del film già lo sapevo ok e nella prima mezz'ora di film si vede un nome si vede un nome che inizia proprio con quell'iniziale là quindi ho capito immediatamente a cosa si riferiva quel nome quel marchio lì e quindi ho capito che c'era un qualcosa di particolare che poi si sarebbe svelato nel finale ok quindi già avevo intuito che c'era qualcosa non sapevo cosa ma poi il finale nella parte finale del film un posto stato comunque spiazzato ma poi proprio l'ultima mezz'ora di film è assolutamente dopo il colpo di scena l'ultima mezz'ora di film va tutta in discesa è veramente un let down continuo c'è una delusione continua l'ultima mezz'ora dei film si va sempre verso il peggio perché perché boh fondamentalmente non deve vincere boh deve essere un personaggio fallimentare le cui sue paure le sue sentime boh è un personaggio fortemente emotivo con grandi sentimenti tra cui la paura la paura è un suo un suo sentimento che lo scondizionerà la sua esistenza ma anche tutti gli altri sentimenti lui ce l'ha amplificati boh è molto emotivo c'è un grande amore verso gli altri una grande empatia verso gli altri soprattutto anche verso la madre e tutti questi sentimenti amplificati che lui ha forse a causa della botta in testa che ha avuto da bambino non si sa tutto questa emotività esagerata di boh lo porterà verso il fallimento verso la sofferenza a riasser in questo terzo film ribadisce che avere grandi sentimenti grande umanità grande empatia verso gli altri ti porta verso il fallimento verso la sofferenza ed è una cosa che secondo me anche questo film ti dà un messaggio sbagliatissimo è un messaggio sbagliatissimo perché secondo a riasser noi per essere umani dobbiamo perdere la nostra umanità cioè per essere di successo dobbiamo perdere la nostra umanità è una cosa terribile da dire per essere dei vincenti dobbiamo perdere la nostra umanità è una cosa sbagliata ma forse a riasser non pensa questo pensa il contrario perché verso la fine del film non dico chi c'è un personaggio che non nomino che non fa sempre spoiler che dirà boh mi piace il fatto che tu non sei un macio ok e questo forse è una chiave di lettura nel senso per essere umani non dobbiamo essere maci tra virgolette non dobbiamo abbandonare i nostri sentimenti la nostra empatia però nei film a riasser poi ci fa vedere che questo ci porta sempre verso il fallimento verso la distrauto distruzione verso la sofferenza questo è sbagliato vabbè comunque dopo mezz'ora che parlo della sostanza del film parliamo brevemente della drama non farò spoiler boh è un povero disgraziato che ha una vita sfortunatissima vive in un quartiere disagiatissimo pieno di criminali e qui vediamo anche chi attraverso gli occhi di boh come avevo detto nel trailer quando abbiamo visto il trailer tutto è tutto è molto amplificato lui vive in un quartiere esageratamente pieno di disagio di crimine di disperati per strada di degrado tanto che addirittura per strada ci sono dei cadaveri che non vengono raccolti da nessuno ci sono dei poliziotti sì ma che perdono il tempo a parlare con le prostitute anziché fare il loro lavoro c'è un pazzo che gira nudo col coltello in mano per la strada costantemente senza che nessuno lo fermi nonostante a pochi passi ci sia un poliziotto che parla con una prostituta capito e poi giustamente la colpa tutte le colpe ricadono sul povero boh che è un povero innocente mentre gliene capitano di tutti i colori veramente in una maniera esagerata che anche angosciante soprattutto nelle prime fasi di film il film riesce a essere angosciante come i suoi due predecessori in alcuni casi anche di più perché boh è uno che ha paura di tutte e le sue paure si incarnano nel film in maniera esagerata infatti la lucandina del film diceva dalle sue più grandi paure deriverà la sua più grande avventura ok e infatti lui c'ha tipo paura di tutto c'ha paura di rimanere chiuso fuori casa e di ciò che accadrà c'ha paura di perdere la sua casa e di ciò che accadrà non faccio altri spazi tutte queste cose accadono nelle prime mezz'ora di film grossomodo mezz'ora è un film che dura tre ore questo ragazzi dura la bellezza di tre ore e ti prende anche per sfinimento ti prende anche per sfinimento questo film comunque niente tutta una serie di sfighe la madre lui scopre proprio all'inizio verso l'inizio del film che la madre è morta e lui deve riuscire a raggiungere cioè all'inizio lui deve andare a trovare la madre e non ci riesce per una serie di sfighe poi scopre che la madre muore e deve andare al funerale ma non ci riesce perché tutta una serie di sfighe glielo impediscono e si troverà attraverso una serie di avventure con rimandi anche a ovviamente a Polanski a Kubrick anche all'arancia meccanica se ci sono dei rimandi all'arancia meccanica dei rimandi dell'inquilino del terzo piano di Polanski sono vari rimandi anche al mago di Oz ok quello con Judy Garland e infatti ci sono anche delle lucandine del film che fanno un riferimento al mago di Oz no che poi un riferimento al mago di Oz c'era anche nel film di Barbie non l'ho detto ma anche lì c'erano vari riferimenti cinematografiche anche a Matrix c'erano riferimenti ma non li ho detti nella nella recensione dove perché ero occupato a parlare di ben altro di di come il film si rapportava con la società moderna con il femminismo maschile tutte queste robe qua comunque torniamo a Boys Afraid in pratica non dico cosa succede dopo succedono tante cose ci sono parecchi cambi di di ambientazione lui fa una sorta di odissea e quando fa questa odissea a un certo punto si trova anche in un film nel film lui non è uno spoiler però perché si vede anche nei trailer si trova attraverso un viaggio onirico simile a quello del mago di Oz con dei fondali diciamo fatti tipo in legno no in realtà fatti in computer grafica mi sembrava fatti in legno questo perché perché lui in quel punto del film si estranea dalla realtà entrando in questo mondo alternativo perché perché lui scopre un diciamo una compagnia teatrale e lo fa assistere ad una rappresentazione teatrale che però gli ricorda un po' la sua vita e gli ricorda il suo passato il suo presente il suo futuro perché infatti un futuro però immaginifico dove lui immagina di avere ben tre figli cosa che nella realtà non è vera no e lui si estranea dalla realtà diciamo per quel per quella frazione di film immagina di fare questo grande viaggio attraverso questi paesaggi onirici suggeriti dalla rappresentazione teatrale immagina di avere tre film tre figli che in realtà sono gli attori della della rappresentazione teatrale e in quel momento lui si estranea quel momento è bello del film perché fa vedere come noi quando andiamo al cinema quando andiamo a vedere un film ci estraiamo dalla realtà e viviamo un'altra vita fondamentalmente trovando trovando comunque le connessioni con la nostra vita no trovando i nostri punti di contatto e infatti boe a un certo punto dice dice stanno parlando di me questo questo spettacolo parla di me dice un certo punto è convinto che lo spettacolo parli di lui no anche se non è necessariamente vero magari ci sono solo dei punti di contatto vabbè comunque ci sono delle altre cose in contro di personaggi strani anche un personaggio molto particolare molto importante che avevamo visto anche all'inizio del film all'interno di una foto in realtà questo accade due volte una foto c'è una foto appesa al muro in cui sarete voi a deciderlo c'è un altro personaggio molto importante che è una bambina che lui incontrò in crociera che era il primo amore di boe e lui gli fece una foto con la polaroid davanti a un cadavere e amore e morte no amore e morte insieme e tema che ritorna più volte nel nel film questa cosa è stupenda però poi non si sa se questa persona poi lui la mai la rivedrà oppure no dovrete vedere il film per scoprirlo e il film ci sono vari colpi di scena vari momenti belli però è anche un film molto angosciante molto crudo e molto surreale anche molte cose che accadono sono veramente surreali e se si parte da un'angoscia pura andando avanti il film diventa un po più disteso nelle atmosfere ma ci sono sempre dei momenti di angoscia e di paura soprattutto a un certo punto poco prima del colpo di scena finale diciamo così però è un film che fondamentalmente come messaggio è fondamentalmente sbagliato come avevo già spiegato cinematograficamente bellissimo come gli altri film di Ari Aster ma anche questo è un film che ti fa male dentro meno degli altri due sicuramente ma anche questo è un film che ti fa male ma soprattutto che ti dà un messaggio sbagliatissimo quello della quello che che i sentimenti umani ti portano a fallire e infatti il film va a finire con una parabola discendente che c'è un finale che non dà assolutamente soddisfazione e sul finale non è spoiler ma lo dico solo c'è un dettaglio di tutta gente che va via delusa esattamente come la gente va via delusa dal cinema c'è uno specchio no fra lo schermo del cinema e la platea in quel momento e questo è geniale solamente Ari Aster è un genio ma è un genio malato perché in quel momento c'è una c'è uno specchio no all'interno del film si vede tutta gente che va via delusa all'interno della sala c'è tutta gente che va via delusa allo stesso identico modo perché il finale di questo film è deludente è fatto apposta perché questo film ti deve dimostrare che la fallibilità dell'essere umano e il fatto che i sentimenti e la bontà i sentimenti ti portano a fallire come essere umano a fallire nel percorso della vita ma secondo me non importa perché questa visione di essere molto negativa nella realtà non è così nella realtà noi dobbiamo rimanere dobbiamo rimanere con la nostra umanità con i nostri sentimenti perché non è ciò che ci fa fallire nella vita ma ciò che ci rende la vita degna di essere vissuta secondo me e quindi i messaggi di Ari Aster in questa sua trilogia cinematografica sono fondamentalmente sbagliati sono profondamente sbagliati e di questo ve ne accorgete anche se voi andate a vedere i corti di Ari Aster i corti di Ari Aster i cortometraggi che lui ha fatto prima di fare questi suoi tre film ha fatto dei cortometraggi che sono tutti estremamente oscuri fallimentari e di cattivo gusto di estremo cattivo gusto il primo film che lui fece era una televendita finta in cui pubblicizzava una cosa veramente squalida e di cattivo gusto che aveva a che fare con i genitali maschili e anche qui in Boise Fred ritorna sta cosa dei genitali maschili che è di estremo cattivo gusto che sta nella parte finale del film ci mette sta cosa che mi ha ricordato anche un film degli anni 80 che era Weird Science se ricordate con Kelly Lebrock c'è una cosa simile ma lì si rideva qua invece è veramente una cosa solo squalida e di cattivo gusto come d'altronde lo è l'autore Ari Aster che è capace di fare delle cose artisticamente notevoli ma fare anche delle schifezze incredibili come quella che ho fatto verso la fine di questo film e lui come autore è un genio è un genio malato che dà messaggi sbagliati e crea angoscia nella gente soprattutto se avete un passato di depressione e ne siete usciti non guardate i film di Ari Aster e soprattutto i primi due Eraditary e Midsommar non li guardate mai perché potrebbero farvi ricadere nel baratro della depressione ve lo dico non è una cazzata molti mi hanno criticato questo messaggio che diedi quando vidi la preview e dissi anche delle cose brutte su Ari Aster o lo offesi pesantemente offesi anche un redattore di una rivista di cinema online mi scuso di questo con quel redattore lì perché lo offesi è una cosa che non va fatta non va offesa la gente soprattutto per come esprime le proprie idee semplicemente quel redattore lì secondo me non aveva capito la sostanza però non fa niente ma beh ragazzi allora film fallimentare come fallimentare Ari Aster è un genio malato e fallimentare Ari Aster questo è per questa volta è tutto ragazzi fatemi sapere cosa hanno pensato nei commenti sicuramente molti mi criticheranno per questa recensione a meno penso di aver proprio colto il centro il cuore e la sostanza di questa trilogia di film per questa volta è tutto ciao ragazzi alla prossima piccola postilla ci tenevo a dire che il trailer visto nella scorsa puntata quando abbiamo fatto la reaction ovviamente era un trailer molto ingannevole come ai tempi ricordiamo di Hulk di Ang Lee anche il trailer ingannevole ovviamente nel film non c'è traccia della canzone che avevano usato in quel film in quel trailer ma già lo sapevo già me lo aspettavo perché la canzone era troppo scansonata per un film così che infatti ha fuorviato molte persone tra cui quel recensore di cui vi dicevo poc'anzi quel redattore quel critico cinematografico che ha creduto che il film fosse una commedia e io nella previa infatti dicevo non è assolutamente una commedia è un horror con tutti i grismi dicevo no per chi non si ricorda la canzone era goodbye stranger dei super trump ok mitica canzone anni 70 e in sostanza il trailer era molto ingannevole soprattutto faceva pensare che il bambino che si vedeva all'inizio il trailer era il figlio di di bro mentre invece nel film scopriamo di figli non ne ha ok quindi non è il figlio di bo quella è un'altra cosa vabbè comunque ragazzi qua chiudiamo la recensione che sarà anche troppo lunga fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti scusate per questa postilla ciao ragazzi alla prossima